Voi due avete molto in comune. Voi non volete credermi? Io è Madame Rouge e ve lo dimostrerò. Che cosa stai facendo? Ti ho appena catturato, sciocco, perché io è la malvagia Madame Rouge. Ma ma ma, pensavo fossimo amici. Anch'io, ma faceva parte della mia malvagità per ingannarti. Ma 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 ma, per me eri come una sorella. Vedi, devi farle cambiare idea. Ascolta, ehi, non so perché questa cattiveria, ma ma non sei tu. E come lo sai? Perché sei l'unica persona che mi fa sentire normale, Biba. Non hai niente di malvagio. Hai ragione, baby fratello. Scusate, ragazzi, mi sa che io non sono Madame Rouge. È sicuro che non sei Madame Rouge. Sei sempre stata qui, nascosta sotto i vostri sederini. Ah, accidenti! Domani a quest'ora tutta la pizza del mondo sarà sostituita dai miei pieroghi e Borscht. Non la passerai, Lisha! Ma certo che sì! Non può fermarmi nessuno! Ha 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 ha! Lasciali andare e subito, cattiva signora! Ha ha ha! Neanche per sogno! Questi Titans non hanno saputo fermarmi e non lo farete nemmeno voi! Questo è ancora tutto da vedere! Titans di sesso opposto go! Che forza! Che agilità! Che... Magni di dimensioni normali! Il mio uomo è forte! Mazzaratt Zitri on tinto! Il ragazzo me è formidabile! Zamanamashumu! È bellissimo! Eccola ragazzo me! Yuba! Alla grande! Titans è di sesso opposto! Siete stati fantastici! Soprattutto il tuo! Grande, grazie! Spero di ricambiare il favore! È stato bello averti conosciuto! Anche per me! Ora so di non essere strano dopo tutto! Alla grande! Alla grande! Aspetta! Ho appena capito una cosa! Se non sono io, Madame Rouge, probabilmente è tu! È io! È tu! Probabilmente è io! Devo sconfiggerti con la mia malvagità! Ehi, tu è come un fratello per me! Strano!